la mano aperta diciamo come fa? la mano aperta ti accendo? dai Robi 10 Stoi! 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 Stai! Quattro. 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 Vieni! Uno Se ha tolito Quattro minuti Treze Vai, sai, no topo Dai Quattordici Uno Due Tre Quattro Gira Uno Due Tre, finita Quindici Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre, finita Sette Vai Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Finita Vai, diciottese Perché lo fatti? Diciottese, infatti Vai, diciottese Uno Due Tre Quattro Cinque Due Due Tre Un Vai Sei Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Cinque Diciannove Vai Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Venti Uno Due Tre Quattro Cinque Vai Dai 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 Uno Due Tre Spinta Un Bravo Davanti o sopra? Do